What's up signori, sono Johnny Creek e come potete vedere siamo su un altro video dove parleremo del Games Week perché ci avete fatto davvero una botta di domande e io sono contentissimo in questo video cercheremo di nuovo di ricapitolare il tutto Allora, una cosa che voglio dirvi a cui tengo veramente molto è che venerdì ci sarà la possibilità per alcuni di voi, purtroppo non tutti perché sennò dovremmo avere uno stand di 6 miliardi di metri quadri ma ci sarà il primo torneo di Melagodo Appage dove potrete giocare alcuni di voi Come fate? Allora, da venerdì dalle 10 fino all'una ci sarà una hostess ad aspettarvi nel vostro stand Voi andate da questa hostess che spero veramente sia una gnocca con le bocce enormi Comunque andate da lei, dite il vostro nome e Faz dice il resto Mentre alle 13.30 pubblicheremo su Facebook i partecipanti che verranno ovviamente estratti a caso da tutti voi che vi sarete registrati I partecipanti saranno 16 e il primo vincerà un HD PVR2 offerto gentilmente da Appage Mentre per le sfide tra noi youtuber ci saranno due sfide, sabato e domenica Il sabato ci sarà la sfida 1 contro 1, mentre la domenica la sfida 2 contro 2 E i partecipanti saranno Deluxe, il buon Raffo, il Danny Battle, Gabbo, Frax, Zamp, Yoma, Ron, Johnny Onizota, Dread e io il sottoscritto Faz Esatto, e se riusciremo tenteremo di streamarvi le finali di tutti i tornei Che sempre grazie al PVR di Appage tenteremo di streamare Poi, un'altra domanda è stata quanti cappellini sono disponibili Allora, con esattezza non lo sappiamo ma non sono tantissimi Quindi se li volete dovete veramente affrettarvi e assaltare lo stand per prenderli Perché finiranno abbastanza presto Poi, noi saremo lì allo stand di 12 come vi abbiamo già detto E saremo tutti e 12, saremo, aspettate la lista che è infinita Deluxe, Danny, Gabbo, Frax, Zamp, cioè io Yoman, Ron, Johnny, Onizota e Dread e Faz Quindi veramente saremo in tantissime Speriamo che anche voi sarete lo stesso Poi, per finire, rullo di tamburi Faremo una partita con il grandissimo Frank Matano Quindi davvero sarà qualcosa da non perdere E vi aspettiamo tutti al nostro stand Quindi trovate tutto in descrizione Perché c'è la pagina di Melagodo linkata Dove ci saranno le varie news, articoli E tutto quello che vi interesserà Quindi per quanto... Ah sì, già, tenteremo anche di fare una stream di tutti noi Con la facecam lì, direttamente dal posto Con una webcam, come faremo nemmeno lo so ancora Però ci proveremo E se sarete lì presenti Magari scrivete un asterisco Hashtag stream per appunto trovare meglio l'evento E per il resto, che dire Io avrei concluso Se qualcun altro ha da aggiungere qualcosa Gianni Greg che vuole aggiungere Io, sì, io vorrei dire una cosa, fratelli Che veramente, io con il sorriso in faccia Penso anche tutti gli altri componenti di Melagodo Veramente ci teniamo tantissimo a ringraziarvi Perché è grazie a voi se siamo arrivati fino a questo punto È una cosa veramente straordinaria Poter avere uno stand dove possiamo divertirci tutti insieme Quindi, veramente, da Johnny Creek Grazie mille, amore totale Vi lascio salutare dagli altri Vai Zampo Va bene, anche da parte mia Un grazie davvero grande Spero che sarete in tantissimi Lì a Milano Perché sarà appunto un'occasione Per trovarci finalmente tutti insieme E quindi, che dire Ci vediamo venerdì, sabato e domenica Bella Allora, ci si becca il Games Week Stringeremo ovviamente Le mani, ci abbracceremo come fratelli Melagodiani Faremo un'orgia totale Stava diventando compromettente Molto compromettente Vieni da Fazza, Zampo e Crick Noi ci vediamo Ciao Ciao fratelli Ciao